Ciao a tutti ragazzi, qui è Archevi Parla e finalmente la 3A ci dà un segno di vita con un nuovo video. Non è purtroppo ancora un teaser per quanto riguarda il COD di quest'anno, ma secondo me è qualcosa di interessante su cui poter discutere. È infatti un filmato per celebrare i dieci anni di Black Ops 1, perché circa dieci anni fa è stato finalmente annunciato a tutto quanto il mondo questo primissimo capitolo della saga di Black Ops. Sì, sono già passati dieci anni, sembra una cosa veramente incredibile, ma così è stato. E appunto perché è questo il periodo in cui teoricamente si presenta, comunque si annuncia la presenza, ovviamente, che non è proprio una sorpresa di un COD alla fine di quest'anno. Io penso sì, in questo periodo hanno annunciato Black Ops 1 dieci anni fa, anche cinque anni fa con Black Ops 3, già verso marzo-aprile c'era stato un mini teaser, anche giusto per dirci il titolo, ovvero Black Ops 3, anche senza averci mostrato assolutamente niente. Quindi, secondo alcuni, ma è compreso, questo è soltanto l'inizio di un elenco, comunque una serie di teaser che vedremo per il COD di quest'anno. Quindi dire, sì, dieci anni fa è uscito praticamente il COD che ha reso tra Earch, quello che oggi si ha per campagna, per il multigiocatore e specialmente anche per zombie. E quest'anno forse ne vedremo delle belle. Sarà magari un reboot per tornare agli inizi proprio di questo Black Ops 1 o appunto Call of Duty Vietnam, giusto per restare in queste location, questo setting storico. E generalmente avere personaggi comunque molto profondi, storie molto interessanti. Sicuramente la campagna di Black Ops 1 è probabilmente una delle migliori in assoluto per quanto riguarda la saga. Io l'ho amata veramente tantissimo, è qualcosa di veramente incredibile. E generalmente comunque con la saga dei Black Ops le campagne sono sempre state davvero ottime, anche quella del 2. Quella del 3 purtroppo non mi ha fatto impazzire, dato che si è capito davvero poco. E su Black Ops 4 ancora di più che proprio non ci fosse una campagna ma soltanto multigiocatore, blackout e zombie. E per quanto riguarda anche zombie di Black Ops 1 secondo me è dove hanno iniziato veramente a prendere sul serio questa modalità. Perché su World at War han detto anche loro che è stato soltanto un esperimento perché a loro piaceva e han visto se sarebbe poi in seguito piaciuto anche al resto della community. Mentre per quanto riguarda Black Ops 1 già con Kino, con Five of the Dops Arcade era un grosso passo in avanti. E poi anche le mappe successive, la costruzione di tutta quella che è la storia etere o quantomeno gli inizi per quanto riguarda la crew degli Ultimis era veramente fantastico. Quindi questo è soltanto, oltre che per essere un video di celebrazione per il primo Black Ops che ha chiaramente senso, potrebbe essere soltanto il primo passo per quanto riguarda tutto quello che vedremo di COD di quest'anno. Oppure, per come ha ideato il mio amico Zeus, che ovviamente saluto per questa grandissima idea, potrebbe essere l'inizio di alcuni teaser non per il COD di quest'anno ma per un Black Ops Remastered. Soltanto della campagna. Pensateci, di recente è uscita la campagna Remastered di MV2, soltanto con single player e nessun multigiocatore e neanche operazioni speciali. È uscita molti mesi dopo Modern Warfare e non insieme al lancio, come è stata per Modern Warfare Remastered di Infinite Warfare, che invece quella presentava il multigiocatore. Il problema principale di avere due multi e quindi due COD è supportarli entrambi e spaccare completamente a metà la community, o anzi di più magari spacciarla in pezzi un pochino più piccoli, perché magari tre quarti sono su Modern Warfare, un quarto su Infinite Warfare, è sicuramente qualcosa di molto più complesso e non perfetto. Quindi ci sta magari a far uscire una campagna Remastered mesi dopo per creare comunque dell'hype intorno al rivedere, diciamo, questa storia veramente unica. E già per MV2, ma anche per Black Ops, sarebbe il top. E ovviamente questo diversi mesi dopo, quindi magari quest'anno fanno vedere un nuovo COD, che sia un reboot di Black Ops, ossia un Call of Duty Vietnam, e diversi mesi dopo buttarsi a bomba con un esce anche il Remastered della campagna di Black Ops 1, single player, e i soliti magari 25-30€ per questa campagna a singolo giocatore, senza neanche il multigiocatore. Questo secondo me potrebbe essere un'ottima idea almeno dal punto di vista di Activision. Io, esattamente come è stato per MV2, anche per questo non andrei ad acquistare a 30€, una campagna vecchia di 10 anni, perché è davvero troppo, e sinceramente preferisco inserire il disco di Black Ops 1 e giocarmela di mio, perché ha molto più senso, ovviamente non devo spendere neanche un centesimo. Piuttosto, nonostante MV2 Remastered non abbia il resto del singolo giocatore, ergo le operazioni speciali, che sono anche in co-op, sarebbe invece il top vedere una Remastered di Black Ops 1 con anche tutto Zombie. Sì abbiamo già visto Zombie Chronicles 1, che ne stiamo parlando molto in questi giorni, di Black Ops 3, ma generalmente se facessero una Remastered di Black Ops 1 con la campagna e tutte le mappe Zombie lo vendessero anche soltanto a 40-50€, penso che molte persone, probabilmente io compreso, lo andrebbero ad acquistare senza battere ciglio proprio istantaneamente. Perché generalmente la campagna comunque è figa, non vale 30€, ma è qualcosa, ma rivedere in maniera ancora più rimodernata, con ancora più meccaniche, usciamo per com'è lo zombie moderno, tutto Black Ops 1, secondo me sarebbe veramente tanta roba. Ricordiamo che Zombie Chronicles è uscito nel 2017, sono passati altri tre anni e praticamente mezzo, o forse ne parceranno comunque quattro prima di poter vedere questo Black Ops 1 Remastered di singolo giocatore, e se ci fossero anche Zombie con tutti gli upgrade sia grafici sia tecnici, Black Ops 1 potrebbe fare comunque un bel figurino. Non sarebbe il top perché alcune mappe sono molto piccole e molto semplici, quindi non si può magari, non si può sfruttare proprio al top la grafica, tutto quello che offre il motore grafico, comunque tutta la potenza del nuovo console, o anche tutte le cose che vengono cambiate su PC per quanto riguarda Zombie, che è un pochino più semplicistico, però chiaramente potrebbe essere qualcosa di interessante. Sono ovviamente tutte quante speculazioni, rumor, tutte buttate in aria da noi queste poche ore in cui è uscito questo filmato, ma penso sia sempre interessante speculare su qualunque cosa possa uscire da Treyarch, che comunque sono sempre stati un pochino criptici, quindi buttare questi filmati a bomba senza neanche troppo senso, però spammarli letteralmente su tutti i social, non soltanto YouTube ma anche su Instagram, su Twitter, veramente da qualunque parte, o sono molto affezionati come noi al Prince of Black Ops e comunque alla saga, cosa che è probabile, oppure stanno programmando comunque qualcosa, che sia una Black Ops 1 campagna remastered, o altrimenti che sia l'inizio dei teaser per COD 2020, che sia un Black Ops reboot, che sia veramente qualunque cosa legata al Vietnam, o simili, e qualcosa comunque che presto dovrà essere presentato. Abbiamo detto che Activision, a quanto pare, ha annunciato che non c'è nessun rallentamento o ritardo sulla tabella di marcia del COD di quest'anno, quindi mi sembra strano comunque che non ci sia ancora arrivato nessun teaser, nessun trailer. Mi sa che presto comunque ci sarà un piccolo annuncio, come è stato per Modern Warfare verso maggio-giugno si parlava di un annuncio molto molto vicino, e penso che presto sarà così anche per quanto riguarda COD 2020, e questo piccolo filmato era giusto un inizio per dire se siamo ancora vivi sui social, state attenti perché presto magari arriverà qualcosa, almeno questa è la mia idea. Saremo a vedere poi nei prossimi giorni se finalmente uscirà davvero un piccolo teaser, anche giusto un'immagine, un trailer di un minuto in cui non si capisce niente, a me sinceramente basta perché è qualcosa di cui poter discutere, di cui poter parlare, qualcosa a meno che abbiamo in mano, diciamo, e non soltanto tutte queste rumore e speculazioni che sono o vagamente confermati o completamente fatte magari dalla community per inventarsi qualcosa su cui parlare. Per il resto ragazzi, dieci anni dal primo Black Ops quest'anno, mi sa che sicuramente parleremo tantissimo delle mappe che sono uscite dieci anni fa per quanto riguarda Black Ops 1, e anche in seguito l'anno prossimo per tutti i DLC che compiono un decennio di vita che è veramente tantissimo. Gli ho preso a giocare a Black Ops 1 nel 2011, mi pare, almeno sul PS3, poi nel 2012 sulla mia 360, a inizio ho giocato a casa di un mio amico, prima la campagna e poi il multi, e poi chiaramente la discesa nella follia che è stato zombie, che dopo la prima partita ne fai un'altra, poi un'altra ancora, poi un'altra ancora, o ne abbiamo fatte 500, e sono le due di notte, diciamo che più o meno è stato così per zombie, ma anche alla campagna ci sono molto affezionato, e il multigiocatore di Black Ops 1 era appunto leggermente diverso da come erano i Modern Warfare, era proprio costruito diversamente, secondo me era qualcosa di interessante, magari molti preferiscono il multiplayer di Black Ops 2, che secondo me era fatto comunque abbastanza meglio, poi chiaramente gli anni sono passati, quindi ci sono degli upgrade per quanto riguarda il gioco e tutto il resto, ma chiaramente Black Ops 1 è un pochino l'inizio, sicuramente per me per quanto riguarda il legame a COD, e soprattutto il legame a zombie, difficilmente riesco a scegliere qualcosa di diverso da Black Ops 1, come il mio capitolo preferito, essendo l'originale, quindi è chiaro che se dovessero fare una remaster della campagna sarei teoricamente più interessato a questa piuttosto che a quella di MW2, ma 25-30€ sono comunque troppi, se già ci fosse zombie a questo prezzo o poco di più, sarei sicuramente molto molto più interessato. Come sempre ragazzi voglio sapere le vostre opinioni a riguardo di una possibile campagna remaster di Black Ops 1, e magari anche se è molto vago qualcosa riguardante zombie, e se anche secondo me questo è l'inizio per alcuni teaser del COD di quest'anno 2020, dato che lo sta facendo teoricamente Treyarch, quindi presto vedremo qualcosina a riguardo, che sia un'immagine, un teaser, un trailer, un annuncio, una conferenza, qualunque cosa possibile che finalmente possano darci qualcosa in mano su cui poter discutere, di cui poter parlare, e immaginarsi quello che andremo a vedere, se ci sarà di nuovo una campagna a contatto di Black Ops 4, ci sarà un altro Battle Royale, come sarà il multigiocatore, come sarà zombie, e se ci sarà zombie, perché ufficialmente ancora non sappiamo se c'è questa dannata modalità zombie, io me l'aspetto, e spero ovviamente che ci sia, dato che è Treyarch, ma in realtà tutto è possibile. Come sempre ragazzi, il video oggi si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, qui sotto in descrizione ci sono i link per i miei social, quindi pagina Instagram e canale Twitch, vi invito a seguire entrambi, e ci riusciamo come sempre, a un prossimo video. Un abbraccio, ala.